Sono complessivamente 3.577 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 7 nuovi casi di età compresa tra 18 e gli 84 anni, mentre il numero dei pazienti deceduti resta fermo a 472. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2.840 dimessi guariti, dato questo invariato rispetto a ieri. Così gli attualmente positivi in Abruzzo sono 265. 25 meno 2 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 2 più 1 rispetto a ieri invece quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 238, 8 più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asle. Del totale dei casi positivi 307 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 2 rispetto a ieri, 888 in provincia di Chieti, più 2 rispetto a ieri, 1653 in provincia di Pescara, più 3, 696 in provincia di Teramo, 28 si trovano fuori regione e uno per il quale sono in corso verifiche sulla provenienza. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 143.041 test. Sono invece tutti negativi 67 tamponi effettuati a tocco da Casauria tra i contatti diretti dei ragazzi tornati dalla vacanza a Malta, mentre è risultato positivo il quinto ragazzo della comitiva che ad un primo tampone era stato considerato negativo. Ora i positivi totali nel comune di Tocco sono 5.